Io questo trainer qua non lo voglio fare perché il trainer è un inganno verso il pubblico perché gli fai vedere delle cose che poi dentro di più non si vedono. Ma perché fanno sempre così? Perché non hanno idee? Ma sono gli americani, vero? Certo, gli italiani. No, no, non sto vedendo bene. Dimmi, dimmi, che c'è? Vedendoti adesso, di profilo, sai chi mi arriva? Chi? Quel campione di potimento. Francesco Sampi. No, no, per carità, mi apri quest'occhio, ti spiace? Grazie. Anche a te guardandoti, sai che mi fa venire in mente? Patrizia Oliva, campione di motocrossimo. Non era il campione del mondo, di mattina c'è. Oddio mio, beviamoci sopra. Alla toia. Alla moglie. Alla noia. Alla toia, alla moglie dei paesi tuoi. Lo sai che secondo il film ma chi beva questo vino si deve ritrovare nell'al di là. Oddio. Ma mi sembra uguale. Guardate, mi sembra uguale. Perché sei ignorante. Guarda bene, guarda bene, non è uguale. Grazie. Mi sembra uguale. Non cambia niente. Guarda bene. Guardate bene anche voi. Che puttete. Guarda bene, 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 guarda bene. guarda bene, guarda bene. 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 guard